Ecco qua stavamo cercando di individuare un fenomeno che sappia tre lingue in Italia oggi e si mette sul mercato del lavoro e non trovi lavoro poi perché poi forse qualcosa trova. Io sono andato a intervistare, anzi è venuto qui a dire la verità, Aldo Duri che è uno dei dirigenti scolastici più noti della regione perché ha gestito giù Malignani, Liceo, adesso al comprensivo eccetera eccetera e secondo me è una persona che dice cose non banali rispetto a questa problematica. Ho diviso in due l'intervista, ci sono delle sollecitazioni interessanti? Si studia per realizzare la propria persona, si studia per trovare un lavoro adeguato alle proprie aspettative. Il libro bianco di Edith Cresson, lo cito perché c'è una frase che mi ha colpito, diceva la funzione essenziale dell'istruzione e della formazione è l'inserimento sociale e lo sviluppo personale dello studente e qui siamo d'accordo, ma essa sarebbe vanificata se non fosse accompagnata dall'apertura di una prospettiva di occupazione. Una persona che non lavora non è una persona realizzata. Ho capito, ma lo spirito critico, quello che ci diceva, un uomo impegnato nella società, un uomo che capisce i meccanismi della società, questo era lo studio una volta, è ancora così? Oppure le due cose vanno d'accordo? Esiste lo spirito critico? Esiste anche colui il quale punta al successo personale, al reddito? Io rispondo per quel che mi riguarda, ho diretto in passato tante scuole tecniche, scuole tecniche di eccellenza e noi non abbiamo mai diplomato dei tecnici, degli esecutori, dei manovali, abbiamo diplomato dei cittadini. I ragazzi del Malignani, del Malignani della Basse, insomma tanto per fare un nome, che sono usciti dalle nostre scuole, sono ragazzi impegnati sul territorio, sono ragazzi che hanno sviluppato competenze critiche di riflessione, di discussione, di dialogo. Faccio solo alcuni esempi, le nostre battaglie, le battaglie solidali in nome della verità, della giustizia, in caso Regeni, le battaglie contro l'omofobia, un altro caso, gli stagi solidali dei nostri ragazzi nella casa di riposo con l'hauser, insomma erano dei ragazzi che erano capaci di progettare, di montare alla casa di riposo dei pannelli solari, di progettarli e montarli con i loro professori e poi l'estate di andare a fare servizio volontario. Le due cose si coniugano, un bravo tecnico. Io ho titolato questa puntata cortocircuito scuola lavoro, quando scatta questo, dove scatta questo, come scatta questo cortocircuito? E beh, allora, noi al Malignani sempre abbiamo avuto l'enorme problema di diplomare tecnici in misura largamente insufficiente alle richieste dell'azienda. Questo è il cortocircuito. I nostri ragazzi non vanno tutti immediatamente in azienda, quelli che scelgono di andarci ci vanno dopo un mese al massimo. I nostri ragazzi poi scelgono anche le facoltà scientifiche e diventano degli ottimi ingegneri, architetti, liberi professionisti, progettisti eccetera. Ci sono delle altre scuole invece che aprono a nulla. Vi faccio un esempio del nulla, perché il nulla è un concetto molto, come dire, molto elastico. Voglio dire, ci sono delle scuole... Ci fa pensare la scienza della formazione, della comunicazione sostanzialmente. Sì, è le scuole che conducono questi approdi. e lì ci sono dei problemi culturali, degli stereotipi che ancora resistono, dei pregiudizi. Parliamo delle ragazze. Al tecnico, che è una scuola di eccellenza, lo ripeto, che assicura un domani sicuro e di piena soddisfazione, tanti nostri ragazzi diventano imprenditori di successo. Quindi, perché mai le ragazze di famiglie, modeste o non modeste, poi, non si giocano questa carta per il futuro? Ecco, l'aveva anticipato l'assessora. Presidente, cosa bisogna studiare per trovare lavoro? Perché la questione è abbastanza terra-terra. Noi facciamo i tecnici, eccetera. Però, se mi vanno a fare scienze della comunicazione, forse è probabile che devono aspettare un po' prima di trovare lavoro. Lei ha un'idea di cosa... Sì, guardi, guardavo proprio dei dati, poco tempo fa, dell'ufficio studi, Eurostate, anche di Confindustria Udine, dove si vede che i laureati nella fascia, compresa tra i 30 e i 35 anni, che già qua ci sarebbe da fare un piccolo excursus per quanto riguarda... Un po' fuori corso. Sì, per quanto riguarda dei luoghi comuni che in Italia sono accettati. Quindi il fatto di laurearsi oltre i 25 anni dovrebbe essere inaccettabile. Il laurearsi senza sapere perlomeno la lingua inglese dovrebbe essere inaccettabile. Invece siamo qua a leggere i dati sui laureati nella fascia compresa tra i 30 e i 35 anni. In Italia è la più bassa d'Europa in questo momento, perché parliamo del 26% di laureati. Andiamo, non voglio parlare di Germania o di Francia, che ovviamente è normale in questo momento che abbiano dei numeri diversi, ma guardiamo la Slovenia al 45%. Il 45% è un numero, praticamente vuol dire uno su due. La Polonia al 45%, il Regno Unito quasi il 50%, la Svezia oltre 50%, la Lituania, il 60% di laureati. Quindi comunque stiamo parlando di un livello di educazione molto basso in Italia, ancora oggi. E di conseguenza ritengo che non bisogna sempre guardare a come risolvere il problema nello specifico, ma guardiamo come il sistema territoriale, il sistema paese, lavora dall'inizio. Quindi abbiamo risorse da formare, poche, veramente poche, c'è una natalità in decremento. Fra 15 anni questo che adesso vediamo come un problema diventerà un ostacolo insormontabile. Abbiamo un'immigrazione non qualificata in Italia, questo è un altro problema enorme. Quindi è vero che dobbiamo andare a guardare all'occupazione nello specifico, però non perdiamo di vista il fatto che ciò che oggi è un ostacolo, domani sarà una tragedia. Cosa dobbiamo andare a fare oggi? ICT, High Technology, High Communication Technology, sicuramente tutte le facoltà di telecomunicazione più innovative e che richiedono delle competenze più alte, hanno una percentuale di aumento dell'occupazione molto maggiore, sia rispetto alla media, ma soprattutto rispetto a tutte quelle lauree o comunque quei livelli di formazioni che prevedono un basso livello di competenze, questo sicuramente. Masutic, ma ICT, e poi? Tutti a fare programmatori, tutti a fare... Continuando... Industria 4.0, voglio dire. Appunto, la questione è che intanto è veramente incredibile questo dato che è stato citato, che noi abbiamo più o meno 20-25% di giovani laureati a fronte del 40% dei paesi con cui ci confrontiamo. Capisce Blasutis perché trovano tutti occupazione? Perché non ne abbiamo? Siccome dava questo dato prima. Però dopo, per quanto essere laureato dà maggiori opportunità di trovare lavoro rispetto a coloro i quali si presentano con un titolo di studio inferiore, i nostri laureati fanno fatica a trovare lavoro escludendo alcuni percorsi che hanno un ottimo mercato, che sono fondamentalmente tutti i percorsi cosiddetti STEM, cioè dei percorsi diciamo che hanno a che fare con le scienze, le tecnologie, l'ingegneria, la matematica, quindi percorsi scientifici. E l'arte. E l'arte, appunto, mancava l'arte anche, visto che siamo in Italia. Ecco, e quindi per le altre facoltà ci sono maggiori difficoltà. Resta comunque il fatto che altri paesi dove hanno 40, 45, 50% di giovani che si presentano sul mercato con la laurea, non è che in quei paesi sono tutti ingegneri. Cioè la percentuale, il riparto per le diverse categorie dei diversi indirizzi di studio non è distantissimo dal nostro e la percentuale, per esempio in Inghilterra, di laureati in materie umanistiche è addirittura superiore a quella che ritroviamo in Italia. Evidentemente ci sono delle modalità in quei sistemi di impresa che magari sono anche maggiormente evoluti, posso fare un esempio su questo? Sì, tra l'altro con l'industria 4.0 si presenterà sempre di più il problema non solo di elaborare le macchine, di farle funzionare, di programmare l'intelligenza artificiale, che dopo quella si autoprogrammerà da sola e forse dopo non serviranno neanche più i programmatori, ma si porrà il problema della comunicazione tra i sistemi e le persone. Sia a valle, cioè con gli usufruitori dei sistemi tecnologici, sia a monte, per l'interazione dell'operatore con la macchina testa. Lì probabilmente ci saranno spazi anche per le lauree che sviluppano le competenze più soft. Allora, Presidente, poi sentiamo Panavita. Sì, velocissimo. Ho fatto questo esempio pochi giorni fa dicendo che ho visto come una persona che conosco abbastanza da vicino ha fatto il dottorato in biologia, studiava il DNA delle piante per la cura delle malattie genetiche e ha fatto un'interview online per Bank of America. Dicevo scusate, ma in base a quale competenza specifica? Benissimo, Bank of America praticamente ha fatto questa interview online che riguardava cultura generale, apertura mentale e approccio alla risoluzione dei problemi, aprendo la possibilità di assunzione a qualsiasi tipo di laurea. E questa persona è stata assunta nel risk management e questo ci fa pensare come la competenza specifica oggi sia messa ovviamente non totalmente ma un po' in secondo piano perché comunque la competenza specifica in un'impresa può essere insegnata. L'impresa riesce a plasmare un ragazzo con l'esperienza, ma le competenze soft, quelli che sono i soft skill, quindi leadership, intelligenza emotiva, pensiero creativo, gestione del cambiamento, capacità di risoluzione dei problemi, queste sono cose che devono essere sviluppate nei nostri giovani e che vengono sempre più ricercate da qualsiasi tipo di impresa. Panariti, un luogo comune, anzi uno stilema che andava per la maggiore, era quello di incrociare la domanda e l'offerta nel mercato del lavoro, cosa di cui si parla come la questione del fare sistema da decenni e forse non ci siamo ancora. Le chiedo, ci siamo o non ci siamo? Credo che abbiamo fatto degli ottimi passi avanti, quell'intervista a Bono che faceva vedere era la firma di un protocollo d'intesa con Fincantieri in cui si ragionerà insieme sia per quanto riguarda i profili che servono, sia per lavorare con il territorio, con le scuole, con l'alternanza, con gli stage, proprio per mettere insieme imprese e territorio. L'Agenzia regionale per il lavoro nel corso dell'anno precedente ha fatto più di mille visite in impresa, raccogliendo le vacancy, raccogliendo le richieste di profili professionali e in questo momento la formazione del Friuli Venezia Giulia è fortemente orientata alla coprogettazione, facendo anche, cercando di sperimentare anche strade nuove, penso al progetto Academy, con alcune aziende in cui abbiamo provato, raccogliendo suggestioni che vengono da altri paesi, a chiedere alle aziende di avere nel gruppo di laureati, in stage che poi, per esempio, a Pordenone sono stati assunti tutti e nove, anche lauree cosiddette deboli, chiamiamole così, quindi... Dica, dica, che vogliamo sapere quali sono? Vabbè, la mia, io sono laureata in storia, per esempio... Ah, c'è l'umanistica sostanzialmente? Non solo, anche... Scienze politiche... Beh, le mettevi dalle malistiche... Ma ora di adesso c'è una crescita, e credo che... Però anche oggi, io ho incontrato dei ragazzi che da un co-working hanno... E hanno poi fatto un'impresa molto interessante, e uno di questi è laureato in una di queste lauree. Benissimo, benissimo. Però ha messo insieme altre competenze, perché adesso forse la sfida è questa, no? Sai di questo, ma devi sapere anche di quello e dell'altro, e se lo metti insieme, lavori. L'esempio che può farci Ermacora, che l'avevo interrotto prima quando parlava di questa nuova agricoltura, che non è solo agricoltura, può andare in questa direzione, cioè una volta si chiamava arte di arrangiarsi, adesso ci sono gli skill, ci sono le cose, ci sono le interview, ci sono tutte queste belle robe, e in agricoltura adesso si fa accoglienza, poi cosa si fa? Si fa ospitalità, si fanno anche delle attività che un tempo non erano considerate agricoltura, o appartenevano più alla sfera della poesia se vogliamo, oggi invece rappresentano un mercato. Pensiamo all'ospitalità, anche lì fare ospitalità oggi non è così banale come un tempo, uno bisogna che sappia la lingua, che sappia come accogliere un ospite, l'ospite è sempre più esigente, perché insomma a livello anche dell'ospite che arriva in visita nella nostra regione, anche nelle aree rurali, nelle aree cosiddette marginali, molto spesso sono persone di una certa cultura, e quindi che vogliono vivere anche l'esperienza agricola, o la vicinanza alla natura, all'ambiente, in maniera diversa, in maniera molto profonda. Come dire, ci sono anche fasi di recupero, mi pare, di persone che avevano qualche problema. Sì, dopo ci sono le cosiddette aziende che hanno una finalità sociale, gli agriasili, tutte queste attività che un tempo se vogliamo non c'erano, che se vogliamo anche oggi è abbastanza difficile collocarle nel mondo dell'agricoltura puro, però diventa molto spesso un'integrazione all'attività agricola, un'integrazione al reddito, perché riuscire a fare una sola fattoria didattica significa molto spesso associare un minimo di reddittività economica che dà l'impresa agricola a qualcosa che, diciamo, si arrotonda appunto con la presenza del turista, dell'ospite, del ragazzo e che diventa integrativo in particolare nelle aree cosiddette marginali, quindi montagna, collina, zone collinare. Senta, il minimo di reddittività qual è? Si raggiunge in agricoltura? Ma in agricoltura non è facile raggiungere... Non nella grande agricoltura, non nella viticoltura. In alcune agricolture per fortuna ancora c'è una giusta soddisfazione economica per quello che è l'impegno e per quello che è, non dimentichiamo l'investimento, perché l'agricoltura richiede grandissimi capitali e quasi mai il ritorno dai capitali investiti è corretto, arriviamo a percentuali veramente bassissime. Oggi molto spesso in molte attività, sto pensando in particolare a quelle che io lo definisco eroiche, cioè fare l'allevatore oggi significa veramente fare una missione, fare un'attività che è un'attività anche che ha una valenza economica, ma se vogliamo anche sociale, perché siamo produttori di cibo e oggi veramente non si fanno lo stipendio, dopo essere impegnati 365 giorni all'anno non riescono a farsi lo stipendio. Molto spesso vivono, è brutto dirlo, con la pensione dei nonni, molto spesso alla base delle aziende familiari c'è l'intero nucleo familiare e quindi diventa un sistema sociale che si regge più su questi strumenti che non sulla rendita dell'attività d'impresa. Benissimo, ho ascoltato anche un ragazzo, un ragazzo è tutto relativo, un giovane che si è industriato a fare delle cose e secondo me la dimostrazione di quanta energia effettivamente ci sia ancora in giro e di come vada incanalata bene. Francesco Nguien, udinese, diplomato, giovane, abbastanza giovane, ecco allora cominciamo da qui, serve studiare o no? Sicuramente serve studiare, io ho avuto un percorso nel liceo classico, proprio qua a Udina poi, il reggio liceo Stellini e poi ho avuto anche una parte di formazione all'università di Udina che però poi ho cambiato per anche cambiamenti di inclinazioni professionali. Sicuramente studiare è assolutamente utile perché le competenze si acquisiscono sì dall'esperienza ma competenze molto specifiche e soprattutto una forma mentis capace di riuscire ad assorbire queste competenze è possibile, secondo me, solo attraverso lo studio. Bene, parliamo un attimo dei tuoi colleghi, dei tuoi coetanei, di quelli che sono andati all'università, di quelli che hanno finito l'università, di quelli che non hanno finita, di quelli che sono andati a lavorare. Cosa fate perché siete abbastanza scomparsi dai radar ufficiali? Beh, partiamo subito dal fatto che i miei coetanei, almeno i miei amici, quelli con cui ho avuto a che fare, si dividono in due categorie, quelli con partita IVA, come me, e chi ha continuato il percorso anche lavorativo all'interno dell'università. Solanzialmente, almeno, io ho visto che si dividono fra i dottorati e le attività professionali freelance, più o meno, insomma. Hanno dato questo, sì che, come dire, anche quello dove ci hanno spinto anche i nostri genitori, insomma, cioè al mitico posto di lavoro, anche non fisso, per forza, ormai non esiste più, almeno per noi. L'unica, anche in professioni che avevano una stabilità forte, come per esempio quello del medico, ormai sono tutte partite IVA. Ho capito. Scendiamo un attimo, per modo di dire, mettiamoci le virgolette, dal cielo vostro, che è quello di gente che ha studiato lo Stellini, il classico, eccetera, eccetera. Altri ragazzi, altri giovani, che decidono di andare in fabbrica, di fare qualcosa di molto più tecnico e molto meno teorico? Ma sì, ne conosco tanti, sono anche molto più giovani di me, hanno 20-25 anni, e secondo me anche questa divisione, come dire, possiamo dire anche dispregiativa, tra il valore del lavoro intellettuale, come può essere il mio, e quello pratico e tecnico, sì, è una valutazione derivante da ideologie passate, di classismo, che ormai secondo me hanno perso anche valore, perché insomma, in realtà, quello che conta è il tempo impiegato, alla fine è il valore che si dà al proprio tempo. Se poi uno decide di impiegare il proprio tempo nella fabbrica, insomma, in fabbrica, oppure davanti al computer tutto il giorno, come faccio io, è semplicemente una scelta. Poi in realtà il problema è se questa scelta è autonoma, oppure è costretta. Ho capito, l'ultima cosa che ti chiedo è Italia o estero? Tantissimi miei colleghi e amici sono all'estero adesso, principalmente a Londra e in Germania. Io anche, come dire, preferisco rimanere qua, comunque, anche per, comunque, il mio impegno nel settore culturale, sia con la cooperativa Punto Zero. Fai web marketing, sostanzialmente. Sì, diciamo, di lavoro faccio web marketing per il settore culturale, e quindi sia con la cooperativa Punto Zero che con la mia associazione Casa Upa, insomma, sento molto forte in me l'attaccamento anche a questa città o alla regione, perché c'è una missione dietro. Però, insomma, chi cerca la fortuna all'estero, secondo me, assolutamente non sbaglia ed è un problema nostro a livello nazionale di politica economica di non riuscire a fermare certi talenti qui. Sei abbastanza giovane, non puoi farlo. Un consiglio? Come scusa? Un consiglio. Dare un consiglio ai tuoi coetanei e ai ragazzi? Il mio consiglio è quello di buttarsi. Nel senso, se qualche anno fa c'è stata l'esplosione delle partite IVE, compresa la mia, insomma, se si ha un'idea, se si ha anche un'idea che non sembra neanche troppo solida, il mio consiglio è quello di buttarsi, perché ci troviamo in un momento in cui il mercato dei mestieri tradizionali, gli ingegneri, gli avvocati, i medici, è completamente saturo. E in realtà, se una cosa vi sembra un po' balorda, forse è l'idea giusta. Be full. Be full. Va bene, mi pareva piuttosto interessante, ragazzo, e ha, come dire, proposto alcune cose che magari sentiremo nella seconda parte. Soltanto un commento, Presidente. La chiamo Presidente perché due cognomi non potrei dimenticarne uno. Fanno un po' confusione tutti, quindi fa benissimo lei. Ha perfettamente ragione questo ragazzo, si vede benissimo che viene dal Vietnam visto il cognome Nguyen, ma il punto è l'opportunità che abbiamo davanti in questo momento. Faccio un esempio perché ho vicino il dottore Ermacquera. Se pensiamo che nel 1870 l'80% della popolazione degli Stati Uniti era impegnata nel settore agricolo, 80% significa il 100% degli abili. Se lo stesso numero rivalutato nel 2008 è sceso sotto il 2%, questo è un esempio eccezionale di successo di riconversione del lavoro. Quindi il punto è il tempo necessario per la riconversione del lavoro. in questo caso, in questo esempio appena citato, sono 150 anni. Oggi sono meno di 10 anni per la riconversione del lavoro. Quindi i giovani dovrebbero valutare questo come un'opportunità immensa di poter mettere in gioco la propria volontà di lavorare, il proprio impegno con quelli che abbiamo appena definito i soft skill e buttarsi in qualsiasi tipo di professione. e poi è l'esperienza che farà capire a ciascun giovane cosa vuole fare nella vita. Io non credo che a 18 anni tutti siamo perfettamente consapevoli di cosa vogliamo fare e dove vogliamo andare. Buttiamoci, facciamo esperienza. Io mi metto in mezzo perché l'ho fatto. No, no, infatti magari se ce lo dice poi perché la sua vicenda come dire professionale è abbastanza interessante però prima ha girato mezzo mondo. C'è una cosa che è importante il buttarsi sicuramente il problema è che buttandoci non sappiamo dov'è il fondo perché un dato che cita spesso la Presidente è quello che i lavori futuri non li conosciamo non sappiamo quali lavori ci saranno tra 10, 20, 30, 60 anni. Ecco solo una riflessione poi andiamo in pubblicità. Sì, questo è il grande problema non sappiamo quale sarà effettivamente non c'è certezza non c'è accordo in letteratura a livello scientifico su quali saranno gli effetti sul piano occupazionale anche in termini di valori cioè se l'occupazione diminuirà o aumenterà in seguito alla rivoluzione tecnologica che è in corso il dibattito è aperto e ancora meno siamo in grado di sapere quelli che saranno i mestieri del futuro quindi come cambierà il mondo del lavoro tra 10 anni non tra 100 anni e per questo è importante appunto da un lato costruire delle solide basi dal punto di vista delle conoscenze l'esempio di questo ragazzo secondo me è importante perché è chiaro che è un ragazzo che ha lavorato sempre con passione cioè questo ha svolto sempre la sua attività con interesse e coinvolgimento perché è fin dalla scuola che deve nascere questo tipo di atteggiamento e se questo è chiaro arriviamo anche sulla famiglia è chiaro ma voglio dire questo è l'atteggiamento giusto che uno deve continuare ad avere anche nel contesto lavorativo e dopo tutto nasce learning by doing dentro le attività facendo ma in questo caso attivandosi intraprendendo provando imparando facendo perché è una cosa che non si dice in italiano imparare facendo imparare facendo imparare facendo va bene allora ci fermiamo credo un attimo e poi parliamo anche della famiglia perché poi alla fine ci abbiamo girato intorno ma credo che uno dei problemi più importanti stia lì grazie